Volevo chiedere a Caio e a Mattias, avete parlato anche con Federico Gatti per chiedere qualche consiglio? Sì, abbiamo parlato con Gattone, io gli avevo chiesto com'era la città, com'era la squadra, lui mi ha detto che per venire qua potevo crescere molto, anche con il mister, con la società, con tutti. E' veramente un bravo ragazzo e mi ha consigliato molto. Lui è un bravo ragazzo, un ragazzo tranquillo e ha detto di stare tranquillo e giocare bene perché gli tifosi qui c'è una presenza grande, si stava sempre pieno e ha detto di stare tranquillo e giocare della migliore maniera possibile.